L'importante è il incontro tra la sindaca Cecilia Francese, il comandante della polizia locale Gerardo Iuliano ed il prefetto Francesco Russo per concretizzare il famoso bando della sicurezza per la videosorveglianza a cui ha partecipato anche Battipaglia, che però è ministeriale. Dovrebbero comunque partire a breve le telecamere, infatti la francese è pronta ad approvare la determina per 20 occhi elettronici. Occorrono fondi del riequilibrio non aiuta, infatti non permette di assumere personale, contrarre mutui e non si possono fare impegni di spesa. Per questo la sindaca ha chiesto subito un incontro al ministero, anche per sbloccare le assunzioni dell'ufficio legale ed amministrativo, ma soprattutto di caschi bianchi. Infatti da 198 sono al di sotto di 50 e da altri andranno in pensione.